Sono tornato, è un film tra atto ispirato da un libro tedesco prima e poi da una commedia tedesca. L'idea di attualizzarlo nasce dalla volontà di mostrare come in Italia la dittatura abbia in qualche modo influenzato poi la dittatura europea, anche quella di vedere come reagivano gli italiani. È stato difficile, difficilissimo, il personaggio a volte comico, a volte inquietante, ma mantiene sempre un tono di una persona sfaccettata, sfumata, non quello di una macchietta, grazie alla brillantezza del nostro Massimo Popolizio. In queste riprese succedono sempre cose divertenti ma poi uno le dimentica, però devo dire che con Frank Matano, Massimo Popolizio, Gioele, ma la stessa Stefania Rocca, si è creato un bel gruppo, una bella affinità e questo film anche rispetto ad altri film fisicamente è stato più leggero. Il film è una commedia, ovvio, è una commedia che fa riflettere anche tanto, non per presunzione, è una commedia che vuole parlare più che di Mussolini dell'Italia di oggi. Che cosa succederebbe se tornasse Mussolini? Probabilmente è una commedia che vuole parlare di tutti i populismi, di quella facilità che hanno i politici, criticare un po' certi atteggiamenti superficiali e di non governo. E in qualche modo questo potrebbe essere il substrato per avventure personali molto pericolose.